Musica Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, saluta a Exmot e oggi siamo qui in questo nuovo video per quanto riguarda Destiny Oggi andremo a vedere come ottenere il mitraglione pesante chiamato Abaddon che sarebbe la versione a danno solare del Signore del Tuono Per ottenere quest'arma bisogna soddisfare intanto due requisiti Il primo consiste nel raggiungere il livello 7 del registro dell'Aurora, quindi il libretto che ci hanno dato con il nuovo DLC Perché in questo modo otterremo l'etichetta di Xur che ci permetterà di ottenere la prima arma, il primo mitraglione pesante che sarebbe quello a danno da vuoto E potete trovare la video guida qui sullo schermo, basta cliccarci sopra Comunque una volta completata l'impresa che vi permette di ottenere il mitraglione a danno da vuoto Vi sbloccherà subito dopo l'impresa per ottenere l'Abaddon che è quello che appunto andremo a vedere oggi Ma siccome il tutto è buggato, praticamente vi dirà che la missione ve la vorrà dare i Corarei Ma non è così, bensì ve la darà Zavala, quindi dovrete andare da lui e parlarci anche se sopra non compare la spunta che sta a significare appunto che vi vuole dire qualcosa Lui ci dirà di parlare con Benshi 44 che sarebbe l'armaiolo, il quale ci dirà a sua volta di guadagnare punti uccidendo i nemici con abilità solari in qualsiasi attività Quindi per fare ciò intanto equipaggiamo la nostra sottoclasse solare Dopodiché per fare uccisioni in modo rapido vi consiglio di fare la missione sulla luna chiamata L'Oscurità Oltre Una volta arrivati a questo punto della missione dovrete guardare un video ma potete tranquillamente schipparlo Subito dopo si apriranno le porte dell'Arveare e usciranno un sacco di nemici che voi potete tranquillamente appunto uccidere con le vostre abilità Quindi super, granate e pugni Ma non dovete ucciderli tutti in quanto una parte la dovete lasciare per farvi uccidere In questo modo la missione riprenderà dal momento in cui le porte si apriranno e voi potete così farmare le vostre 100 uccisioni con abilità solari Una volta effettuate le 100 uccisioni dovrete semplicemente ritornare da Benshi 44 alla torre Il quale ci dirà di completare l'assalto i fratelli di sangue Quindi facciamo come ci dice andiamo su Lastro Corazzate e selezioniamo l'assalto i fratelli di sangue Ma ricordatelo di mettere a luce 320 quindi in modalità normale Altrimenti l'impresa non verrà considerata completata Finito l'assalto ci verrà richiesto di parlare nuovamente con Zavala E quest'ultimo infine ci darà finalmente il nostro mitraione a danno solare chiamato Abaddon Quindi signori e signori per questa video guida è tutto Spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto stato utile Se fosse stato così vi ricordate di lasciare un like, commentare e iscrivervi al canale E da next video è tutto, ci vediamo al prossimo video, bella!